Ah news, c'è news Nuovo trailer di Tekken, dobbiamo guardarlo Ma finalmente ho fatto il trailer gameplay di Eddie Gordo Non gli sta male questo taglio di capelli Però è davvero spammato il taglio di capelli Incredibile per un moveset eh Poi probabilmente sarà un incubo da combattere però Questi sono gli altri outfit Questi sono i vecchi capelli Che bello, comunque c'è l'opzione dei vecchi capelli Per fortuna Sarà un incubo da combattere ma molto figo Ma fa la capoeira, sì lui fa capoeira La cosa figa è che non ho appunto parlato durante il live stream di Tekken Non l'ho guardato perché è tipo due ore e mezza Però ho letto il TLDR Hanno parlato di come hanno fatto il design del personaggio Come l'hanno elaborato e tutto Eddie Gordo in Tekken da Tekken 3 Eddie Gordo in Tekken 3 ha ispirato una persona A imparare la capoeira Che poi ha fatto carriera dentro Bandai Namco E ha iniziato a lavorare nel team di Tekken E è diventato lui il persona che ha fatto il motion capture per Eddie E che ha aiutato nel design delle sue mosse E lo stile di combattimento Fighissima come cosa È Eddie che ha ispirato lui E lui adesso che cambia Eddie Per assomigliarlo ancora di più a se stesso praticamente Praticamente Ma è finissime due ore e le due sotture Il nostro progetto è fatto ma è un progetto